Partiamo subito dal spazzolarlo prima del bagno e vi spiegheremo il perché. Prima useremo, insomma usiamo un cardatore a denti larghi. Individo il cane a metà per capire dove devo lasciare per la salita. Creo un punto vita ma solo in questa parte. Andremo a crearci una linea dritta. Il secondo taglio è un punto di riferimento alla parte più larga del cranio. Grazie.